attenzione annuncio squalifica relativo alla serie due l'atleta Aurora Rigo è stata squalificata per nuotata irregolare cento d'orso ragazzi Garbo dalla fine Antonello Tonello sbrissa Armelin Coan dalla uno alla sette Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Zamana in otto intanto Antonello uno dodici e novantacinque Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti